Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video andremo a vedere come evidenziare automaticamente il numero più basso e il numero più alto tra un elenco di valori presenti su Excel Per farlo inizieremo andando a selezionare le celle che vogliamo andare a controllare Nel mio caso ho questi 14 campi quindi fino alla cella 15 ovviamente perché il primo non lo andremo a contare Ma mettiamo il caso che vogliamo magari verificare più celle anche se al momento sono vuote ma prevediamo che magari in futuro andremo ad aggiungere altri elementi Quindi vado a selezionare anche le celle vuote Andiamo poi su formattazione condizionale, regole, primi e ultimi valori e iniziamo con l'evidenziare il valore più alto Quindi selezioniamo primi 10 elementi In questo caso automaticamente me ne seleziona 10 ma andiamo ad abbassare il valore a 1 e andiamo a selezionare solo il valore più alto Possiamo scegliere ad esempio di evidenziarlo in verde con testo verde scuro Oppure andare a personalizzare il campo quindi andiamo su formato personalizzato Riempimento ad esempio imposto lo sfondo verde scuro Il carattere lo imposto su bianco E grassetto Clicco su ok e confermo Vediamo che adesso abbiamo questo campo selezionato Facciamo la stessa cosa per evidenziare il valore più basso Quindi formattazione condizionale, regole, primi e ultimi valori, ultimi 10 elementi Anche in questo caso selezioniamo un solo elemento Possiamo sempre scegliere tra questi valori già impostati Oppure possiamo andare su formato personalizzato In questo caso seleziono come sfondo un rosso scuro Carattere lo imposto sempre su bianco E sempre grassetto Clicchiamo su ok e confermiamo di nuovo Quindi abbiamo attivato la verifica fino alla colonna, fino alla riga 35 La cosa importante è che avendo attivato la formattazione condizionale I dati saranno sempre controllati Quindi se ad esempio io andassi ad inserire qui 1 Questa diventerebbe la cella con il valore più basso Se poi dovessi andare a cambiare ad esempio 300 in 1000 Diventerebbe questa quella con il valore più alto Ultima nota Ho già le regole preimpostate ma le voglio modificare Quindi non mi va più bene le regole che ho impostato Come faccio a modificarle? Non serve selezionare nulla in questo caso Andiamo su formattazione condizionale Gestisci regole E da qui possiamo andare a modificare le regole preesistenti In questo caso non ce le mostra perché siamo su selezione corrente Spostiamoci su questo foglio di lavoro e vedremo le regole Altrimenti se le vogliamo mostrare sulla selezione Dovremo annullare e andare su una cella che ha già una regola Quindi abbiamo due modi per vederle A questo punto possiamo modificare le regole Quindi selezioniamo ad esempio ultimi Quindi il caricamento o la modifica dell'ultimo valore Clicchiamo su modifica regola E possiamo andarla a modificare Ad esempio non voglio più mostrare l'ultimo valore Ma gli ultimi due Oppure voglio cambiare il formato Oppure ancora voglio cambiare le celle Alle quali applicare questa regola In questo caso vado a cliccare sulla freccia E posso andarmi a modificare le celle Quindi le vado a riselezionare Ad esempio seleziono solo fino alla 20 Oppure magari voglio selezionarle fino alla 260 E premo invio Quindi abbiamo esteso la regola a più celle Stessa cosa si può fare ovviamente per l'altra regola Clicchiamo poi su applica E clicchiamo su ok Vediamo che tornando su Abbiamo due valori selezionati Perché abbiamo impostato la regola Per mostrare non più uno Ma gli ultimi due valori Questo è tutto Come sempre se avete dubbi Domande o suggerimenti Scrivetemelo nei commenti Vi ringrazio per aver seguito questo video E ci vediamo al prossimo E ci vediamo al prossimo